Assistiamo alla follia di un governo che per mesi ci ha raccontato che avrebbe fatto il cambiamento e avrebbe piegato l'Europa e siamo di fronte a una manovra finanziaria scritta sostanzialmente da Bruxelles. A me interessa recuperare il rapporto con tanti elettori che il 4 di marzo non ci hanno votato. So che ci sono un sacco di elettori 5 stelle che hanno magari dato il 4 di marzo il loro consenso a quella forza e oggi si sentono completamente traditi da quel movimento. Fianco a fianco per me vuol dire iniziare a ricostruire il Partito Democratico a fianco a ragazzi, donne, persone che non si sono sentite rappresentate in questi anni. Io riparto dai bisogni, riparto dall'articolo 3 della Costituzione, alla lotta alle disuguaglianze e in particolare in alcune terre riparto da tanti ragazzi che cercano un riscatto e cercano anche una politica diversa. Io penso che la questione generazionale sia la questione italiana, perché ci sono troppi ragazzi, troppe ragazze che non hanno avuto opportunità in questi anni e le devono avere, ci sono dei talenti inespressi e c'è un grande tema anche di disuguaglianze generazionali nel nostro paese che va riconosciuto e va cambiato. Per me il lavoro e la scuola prima di tutto. Io penso che la questione femminile è una grande questione che ha a che vedere con tutti noi. concretamente vuol dire costruire alcune battaglie per la palità saraliare, per l'accesso ad alcuni servizi fondamentali della cura e della maternità. Una grande questione decisiva come quella dell'allargamento di alcuni servizi, pensiamo agli asili nido. Poi sì, certamente anche il tema della lotta alla violenza, del femminicidio, di tutto quello che purtroppo stiamo vivendo anche nel nostro paese da troppo tempo. Non ho nessun dubbio nel dire che la bossi finiva abrogata perché è stato un problema per l'Italia negli anni scorsi e basta vedere i dati. Non ho nessun dubbio nel dire che noi dobbiamo avere la forza anche di costruire un'iniziativa per l'abrogazione del decreto Salvini perché quando un provvedimento come quello annunciato con la bandiera della sicurezza produrrà invece più insicurezza, dobbiamo avere la capacità di costruire nel paese una reazione alternativa. Se vedo i dati che vengono mostrati e ragiono dei 100.000 irregolari che il decreto Salvini rischia di creare nel giro di due anni, io credo che il Partito Democratico insieme a tante altre forze si debba mettere alla guida di un'operazione per l'abrogazione di queste norme. Penso ad esempio che quello che noi abbiamo avanzato, cioè l'idea di un referendum abrogativo, sia una delle strade per costruire anche consenso nel paese attorno a questi temi delicati. Mi preoccupa, mi preoccupa il silenzio dei vertici del Movimento 5 Stelle rispetto a questi provvedimenti. In questi mesi sostanzialmente hanno bevuto tutto quello che Salvini ha deciso. Mi preoccupa la poca autonomia, la poca capacità di disarticolare alcune scelte, di dire dei no al potente di turno da parte del vertice dei 5 Stelle. Credo che per le elezioni europee noi dobbiamo lavorare con tutte le energie del paese che sentono come noi il rischio che stiamo correndo e che vivono la tappa delle prossime elezioni europee di fine maggio come un passaggio fondamentale. Ma dentro l'idea di una nuova Europa, non fuori dall'Europa. Io sono convinto che tanti italiani non vogliono uscire dall'Europa. Assistiamo alla follia di un governo che per mesi ci ha raccontato che avrebbe fatto il cambiamento e avrebbe piegato l'Europa e siamo di fronte a una manovra finanziaria scritta sostanzialmente da Bruxelles. Cioè i sovranisti in realtà hanno consegnato carta e penna a Bruxelles, molto più di tutti i governi della storia recente del paese. Capisco che questa discussione rischia di essere molto autoreferenziale e non mi appassiona molto. Io quello che posso dire convintamente è che il Partito Democratico deve aprirsi, tornare ad essere un soggetto attivo nelle relazioni con la società italiana. A me interessa recuperare il rapporto con tanti elettori che il 4 di marzo non ci hanno votato. So che ci sono un sacco di elettori 5 stelle che hanno magari dato il 4 di marzo il loro consenso a quella forza e oggi si sentono completamente traditi da quel movimento. Sono per un Partito Democratico che ricostruisce il campo del centro-sinistra, lo fa in forme nuove, senza evocare vecchi schemi. Se discutiamo così delle alleanze, rischiamo di allontanarli. Mentre se discutiamo di lavoro, scuola, sanità, investimenti, infrastrutture, mezzogiorno, lotta alla povertà, possiamo avvicinarli. Io vorrei fare il secondo percorso più che il primo. Grazie. 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 Grazie.